Akupellinen, la tua prima season in Porsche Carrera Cup Italy, qual'è la tua prima impressione, la tua sensazione? Sì, sarà interessante e non è facile, ma sono qui per imparare come possibile e spero di essere al topo come possibile. Quindi cosa pensi di questo track, un'historica come Monza? Monza è un'ottima track, mi piace essere qui e ci saranno molto felici. E ti piace il caro, come ti senti la prima settimana per la prima settimana? Si, il caro è molto bello, è un po' triccio, ma penso che sarà divertente quando ti senti il caro, quindi sarà molto bello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.